Essere premiato nella sala consigliare del comune di Montesilvano dove ricopre l'incarico di consigliere comunale che effetto fa un premio per meriti sportivi? Sicuramente è una situazione un po' anomala perché normalmente frequentiamo questa stanza per altri motivi però è comunque molto bello perché poi alla fine per ogni sportivo quello che vale è il riconoscimento finale quindi sapere di aver fatto al meglio la propria azione nell'arco di tutto l'anno scorso è comunque una cosa molto bella, piacevole, insomma sempre un bel risultato. Tante soddisfazioni per Raffaele Panichella, un riconoscimento nazionale nel rally ma anche un riconoscimento ai Fornelli come vincitore della manifestazione politici ai Fornelli. Beh diciamo che sono un po' leggermente competitivo quindi quando mi metto in gioco provo a dare il massimo chiaramente è stato più facile vincere ai Fornelli che non in macchina perché gli avversari erano tanti le gare sono state lunghe, difficili e poi nei rally c'è sempre una componente di rischio e di fortuna che contribuiscono al risultato quindi a volte per un centimetro sei fuori strada, per un centimetro sei dentro quindi però insomma è andata bene. Ma in quale dimensione ci si ritrova meglio Raffaele Panichella? In quella culinare, in quella sportiva, in quella di amministratore pubblico? Dove? Ma diciamo che l'automobilismo e le automobili in generale sono la mia vita quindi da ragazzino sognavo di fare il pilota e questo sogno è ancora ben presente in me per cui finché c'è continuerò a farlo. Un premio oggi da dedicare a chi? Ma forse... beh insomma sarebbero tanti perché poi è un risultato comunque di squadra perché c'è il navigatore accanto che nei rally è fondamentale, c'è la squadra, il team, i meccanici, il preparatore e quindi il pensiero va a tutti loro perché ognuno per una piccola grande parte ha comunque contribuito a questo risultato. Io poi ho solo cercato di guidare al meglio la mia macchina e portarla al traguardo davanti agli avversari.